www.redigio.it e la storia continua Sant'Ambrogio che cerca di scappare Ambrose cerca di scappare Raccontato in dialetto Ambrose cerca di dire no alla sua elezione E si rifugia, ma inutilemente E che aveva più c'è da quarant'anni E l'era nonca batesa Ma i milanesi l'avevano cherni E vedevano in lui la sua guida spirituale E voleva mica sentire di ragione Stremi per la responsabilità Che aveva Adria Burlag tra cap e col Ambrose l'ha insistu De far cambiare parere ai suoi concittadini Contadre tutta la popolazione All'endà da cursa al palazzo del pretore E l'ha subito l'ordine di frustrare Un qualche persona Con la speranza che la dimostrazione D'una roba in ci crudelle La potezza fa scappare la veia Anca i so sostenitori Ma resta da tutta fatica trazzata Allora Ambrose L'ha pensato bene De far passare per un liberalon M'ingadene di Vesvesco E si l'invita a casa Tutti donasch della città Ma i milanesi Anca se con un po' De meraviglia Aminga cambia la sua decisione Ma cos'è che poteva fa Partiras via dei dos La volontà dei tuoi milanes Ambrose L'ha pensato che l'unica soluzione All'era quella D'amena i tol desfrost E se dessalvasse In un quai sit scondi In due milanes A varia mingapo du troal E inci la fa L'ha deciso di scappare Con la sua mola La betta E parmenga Riscia Che che corresse Andrè L'ha pensato bene Da metta la mola I fer All'incontrare Sta de fatto Che intorno Alla leggenda Della mola Betta Unque vinn La tiraferra Una variante curiosa Se dís Che la mola Dopo ave Tapascià Parpusè Da una ventina Di milanes L'ha arrivata Maros Con la mala gente L'ha si è perduta In un bosco Senza Senza che Ambrose Che che aveva Un cosso Sura Se ne accorgesse Fatto sta Che alla mattina Asse trova anche A Montelburg Di Ortolan In che Fara da portavolta In sto sito Che sta costruire Una gesa Che l'ha Gadao Il nome De Sant'Ambres Al nemus e truttava, e via via, e se trovava saldo al poste medem. Un'altra tradizione par calavigna addirittura del paurin, il nudare dell'ambrose, che l'ha scritta anche la sua vita. Il santo voreva andare verso il tesino, ma la mattina dopo se trova per un miracolo appena fuori della porta romana. In dei setti secoli milanesi hanno avuto agio di figurare la vita del suo protettore in tante maniere, ma il miracolo resta sempre quel. Ambrose poteva non disobbedire alla sua volontà della providenza. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it 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 www.redigio.it